Appassionati d'opera, in visione, in ascolto, ben ritrovati. Ben ritrovati, io sono particolarmente lieto di dirvelo perché sono in compagnia di Donata ad Annunzio Lombardi che è nostra affezionata, in realtà prima avevo detto vecchia che non mi piaceva molto, una vecchia amica però, che tu mi suggerivi, antica che è più bello ancora. L'antico può risolvere tanto. L'antico risolve molto. Perché non si è arcaico? No, arcaico no, ma si tratta in realtà, beh, si conosciamo da qualche mese, ricordo una bohème coloratissima, è riuscita qua qualche anno fa, qualche mese fa. Allora, sei cantante, sei didatta, tutte le cose che fanno quelli che hanno una bella voce la tramandano anche agli altri, giusto? Tu insegni pure. Sì, insegno. Mi piace molto alternare, così, lo spazio personale, individuale, quello del percorso artistico personale con quello dell'insegnamento, sì. È una grande passione. È una cosa bella, no? Perché si tratta di condividere poi quello che... perché poi paradossalmente si impara molto di più, eh? Perché si è costretti a uscire fuori, a mettersi in gioco fino proprio all'estremo e quello che può dare un'altra voce in cambio è veramente un percorso energetico straordinario. Energetico serve anche un po' come ripasso poi delle problematiche di canto. No, come no. Vorrei però sottolineare che l'insegnamento e l'apprendimento, l'educazione e la formazione vocale è una cosa molto seria, molto seria. E non ho nessun dubbio. Molto seria. Anche perché immagino che non prescinda dalle qualità naturali poi, cioè c'è anche una base. La propensione è fondamentale perché, insomma, ecco, come dire, le più grandi propensioni sono l'aspetto morfologico, poi sono l'elasticità e la tonicità del corpo e ovviamente tutte quelle attitudini mentali in grado di risolvere ed assolvere i grandi compiti come l'intonazione, come il senso della frase, il senso poi anche teatrale, eccetera. Tutto quello che la mente ovviamente organizza. E infatti ci tengo molto a... il mio metodo si chiama D'altro canto e... E' un bellissimo nome. E' vero? Sì, siamo abbastanza rivoluzionari, quindi ci è piaciuto scrivere questo nome. E sotto, appunto, c'è scritto che il canto è uno stato mentale, proprio per questo motivo, perché... Hai detto una cosa fondamentale, tra l'altro, no, postura di cuore, recitazione, perché qui facciamo melo, dramma, spesso ci si concentra più sul melo e meno sul dramma, no, sulla recitazione. Sì, sì. E qui stiamo parlando di Tosca, adesso arriviamo al punto che forse, almeno del gruppo, il Dream Team, come lo chiamo io, Illy, Capuccini, Giacosa, è forse veramente l'opera dove si recita di più. Anzi, la protagonista è il famoso teatro nel teatro, no? Assolutamente. Sì, è una cantante, quindi... Abbiamo appunto il ruolo, e Tosca è un motore primo inconsapevole di tutta l'opera, ed è veramente, insieme forse all'Adriana Lecourer, tra i ruoli più teatrali che siano mai stati scritti per un soprano. perché ho parlato di un motore primo inconsapevole, perché naturalmente noi cantanti siamo coraggiosi, siamo forti, determinati, siamo anche molto fragili, siamo delicati, e solo un artista poteva credere al Conte Palmieri. Sì, e quindi quasi accogliere in sé tutto... Forse lo stesso Cavaradossi non ci crede quando gli viene comunicata, sicuramente non ci crede, sicuramente non ci crede. Lei ha bisogno, credendo a tutto, può tutto, e quindi è l'unica, nonostante l'organizzazione maschile, perché è un'opera completamente maschile, dove le figure femminili sono solo evocate, addirittura sono dipinte come latta avanti, o veramente pregate come la Madonna. E poi c'è Tosca che realizza in maniera pragmatica il sogno degli uomini, quello di essere rivoluzionari rispetto a questo mondo reazionario, che frena la fantasia e la giovinezza di un popolo desideroso di libertà e di amore, e di modernità anche, no? Certo, amore è la parola chiave. Amore è la parola chiave, certo. In realtà uno invece dei motori dell'opera, anche il rovescio della medaglia dell'amore, che è la gelosia. Perché Tosca è vittima, ha un tallone d'Achille, diciamo, che è questa. Sì, però, ricordo la grande Raina Cabayvasca, che parlava sempre di Tosca, così grandissima Tosca, che mi diceva, beh, ma questa Tosca non so quanto sia così grande come personaggio, da un punto di vista psicologico. All'inizio, un giorno parlavamo proprio di questo, tanti anni fa. Però, quale donna, abituata a raggiungere il suo amato, in un qualsiasi posto, trovando chiusa a chiave la porta, sentendo un fruscio di vesti e un bisbigliare, non chiederebbe perché è chiuso? Non si pone in seguito. Cioè, è normale. E poi Scarpia ci mette un po' del suo, col famoso ventaglio. Dopo, appunto, cade perfetto. Ma lei segue un percorso molto fisiologico. Poi, il suo amore dipinge una donna come la Maddalena, quindi piena di sensualità, di peccato, anche se di redenzione, e spesso, infatti, la dipingono anche se minuda, no? e trova questa donna che non ha i suoi occhi, i suoi occhi neri. Oddio, nel mio caso... Fra l'altro qui ci vogliono le lenti a contatto. Sono un po' davanti, un po' tosca. Però, ecco, io la giustifico, la povera Tosca, perché entrando, è un carattere forte, è un carattere che non sta al posto suo, diciamo questo, ma ha le sue ragioni di dire perché era chiuso, con chi stavi parlando, ho sentito parlare e bisbigliare, dov'è? Poi, magari, è troppo, perché incomincia a dire dov'è quella donna. Sì. E non potrebbe dire, infatti, si tratta di un uomo. Sì, certo, ma poi... Ma questo è il carattere della crisi cantante, che non consentono, non fanno sconti, eh? È così, è così. Altrimenti, davanti a un pubblico non si canta, se si ha la testa pronta ad avere delle remore, o ad avere troppa riservatezza. Senti, vissi d'arte è così terribile come... È splendida, chiaramente, però arriva in un momento, il momento della cena con Scarpi, è subito prima di un omicidio. Sai che a Roma avevano detto alla critica, l'avevano chiamata l'Opera Ville, Tosca, perché una donna che uccide con un coltello, la cucina... Ma poi in quel periodo era veramente... Sarebbe, farebbe scandalo, e soprattutto ci lascerebbe attoniti ancora oggi, eh? Sì, sì, stiamo parlando nel 1900 proprio che è uscita. Però è vero, perché è una donna vera, perché è una donna vera, e quindi fino in fondo dice la sua verità, e la sua verità è di non poter tradire il suo uomo, anche se lo ha appena deciso, per salvarlo, perché ovviamente salvare una vita è più importante di qualsiasi altro destino, però poi trova la forza di... Questa uccisione è una redenzione quasi. Il Vissidarte arriva soprattutto in quest'opera, arriva dopo momenti di grande slancio fisico-muscolare, abbiamo veramente il fiato oltre le ore. Già corto, devi pure cantare il Vissidarte. Ricordiamo, e per i pochi non lo sapessero, è una delle aree più famose di tutto il melodramma italiano, quindi non è che non hanno un'edizione di riferimento quelli che l'ascoltano, quindi è aspettata. È attesa, è un'area nella quale le parole quasi vanno a stridere con la musica, perché è un rimprovero di una donna, ecco, conosciamo Tosca nel Vissidarte, ma se ho fatto questo, ho fatto quest'altro... Se la prende quasi col cielo di dire, perché devo essere pagata in questo modo. E questo la rende poi un gigante dopo, perché non è una donna che calcola o che comprende la realtà nella totalità a 360 gradi. È una donna che fino a quel momento ancora subisce quello che le succede, come un destino tremendo. Ancora si appella a Dio e ai gioielli che ha dato al manto della Madonna, ma nello stesso momento, nello stesso momento, poi diventa l'unica capace di realizzare il desiderio di Angelotti, di tutti i rivoluzionari. Questo è il contraltare fantastico che è costruito sia da Giacosa Illica che da grande genio Puccini. Sì, la pallavano tutti insieme, insieme a Ricordi addirittura, credo che fossero quattro poi gli autori. Infatti, onestamente, delle cose di Puccini, le tre cose a cavallo del Novecento, Bohème, Tosca, Butterfly, sono veramente il meglio di Puccini, secondo me, da quel punto di vista. Oggi ricordavamo, anche che forse, senza Francesco Paolo Tosti, Tosca non sarebbe nata, perché è Tosti che invita Puccini a Londra ed è Tosti che lo porta a vedere Sara Bernard nell'interpretazione di questo film. Ricordiamo che tutta la scena delle candele del coso era di Sara Bernard, assolutamente, e immagino veramente che cosa sia passato nella mente di Puccini in quel momento. L'altro Puccini sapeva anche poco l'inglese. No, lo sapeva per niente. Gli funzionavano come emozione, no, le cose? Ovviamente, ma appunto di quel grande amico Tosti di cui quasi nessuno parla parlando di Puccini, invece è stato fondamentale sia per questa opera sia poi anche per la sua vita privata. Ricordiamo che poi è il fondatore della lideristica italiana, io la chiamo, no? Grande romanzista esistente. Certo, caspita. Anzi, colgo l'occasione, ho appena finito di incidere per la Brilliant, tutte le sue, io ho fatto solamente 14 delle aree dedicate ad annunzio, così mi hanno naggiato, visto il cognome e viste le mie origini abruzzesi. Ah, tu sei abruzzese come te annunzio, quindi c'è parentela? Certo, mia mamma. Ah, vedi, ecco, questo è... Abbiamo... Io sono nato a Aquila, quindi non è che sono molto lontano, c'è una certa libertà con i pescaresi, però, ma è stato che non voglio... Aquila, bella me. Aquila, bella me, io corso pure... C'era, c'era, c'era. C'era, 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 perché dopo il terremoto, purtroppo... Sì, purtroppo non possiamo neanche... Sì, è vero. È vero, ecco. Beh, però si sta ricostruendo bene. Speriamo, io sono di origini anche amatriciane e lì la storia è veramente... Abbiamo un percorso sismico comune. Desolante, sì. Però, ecco, tornando a Tosti, ci sono quattro battute che Puccini dedica proprio al suo amico Tosti, ricordando il goodbye di Tosti, quando Tosca, congedandosi per qualche secondo dal suo amato Cavaradossi, si reca ai piedi della Madonna per omaggiarla con i fiori. Certo. E in quel momento c'è lo stesso motivo di goodbye. E' un tributo proprio, si direbbe oggi. E quindi queste cose mi hanno detto perché non le dice quasi mai nessuno. Sì, è vero. Fra l'altro Tosca, ricordiamo che, da questo punto di vista, è cinema puro. Cioè, mai come Puccini ha trovato leitmotiv per tutti... Il sagrestano, c'ha leitmotiv saltellante, persino un ruolo di secondo piano, c'ha il suo leitmotiv che viene sempre portato. Per non parlare di Tosca, di Scarpia, ovviamente. Tutto, tutto. Non ti dà tregua. Ogni volta che viene nominata la gelosia ricorre un pezzetto di... Sì, ridono i violini. Sì, assolutamente. Eh, ma... Inutile dire, parlare, cioè, veramente... Ci stiamo parlando di un genio assoluto, questo andrebbe premesso sempre prima un cappello. che sempre mi colpisce particolarmente in quest'opera è questa teatralità sconfinata e il pensiero suo nel non lasciare mai nulla al caso. Ecco, forse mi posso permettere di dire questo... Il trionfal che è il duetto finale fatto a cappella che un po' poi ricorderà anche Andrea Chenier. Non so, questa è l'unica cosa che non... Potrebbe essere, forse, da un punto di vista proprio di climax. Sì, è vero. L'unica cosa che non sento così pucciniana, però noi glielo possiamo chiedere. Io chiedo anche scusa per l'averlo notato, però per il resto è una cosa infinita. Non posso esimermi la chiedere. Fino alle nuvole leggere. Ti devo chiedere una cosa, che è una curiosità mia infantile. Ma quando uno si deve buttare alla fine da Castel Sant'Angelo, un po' di paura ce l'ha alla fine. Io ho la fortuna a Roma di abitare quasi di fronte a Castel Sant'Angelo, abito all'Arapacis, scusate, l'Arapacis sarebbe anche un altro bel luogo. No, abito all'Arapacis. Quindi guardo dei tramonti, guardo questo meraviglioso castello di giorno, di notte, anche all'alba mi è capitato. Che posso dire? Quando succede in scena bisogna veramente stare attenti a delle colleghe che si sono veramente fatte male. Lo so che c'è tutta questa... Anche perché non è che uno dice vabbè ora non mi butto. No, è uno, due, tre, quattro, davanti a Dio e poi via. Assolutamente devi farlo. Non puoi aspettare quando ando dalla piscina. Svelo un segreto. Svelo, siamo tra di noi. Mi tolgo le scarpe furtivamente all'ultimo momento e mi butto. Perché buttarsi su un materasso con i tacchi... Sì, rischi. Ho avuto un piccolo problema già alla caviglia. E quindi è una cosa che faccio con tutto il coraggio, con tutto l'entusiasmo, ma senza scarpe. Ma con qualche piccola precauzione. Sì, perché così uno ha modo di poter saltare e piegarsi e poi cadere come cadi. Ma un tacco su un materasso può veramente essere... Può scorciarsi veramente alla caviglia. Sì, ho un paio di colleghe veramente che hanno avuto anche dei danni irreversibili per questo, quindi insomma... Ma vedi, la mia sembrava una facezia, invece era vera, si rischia sul segno. E volevo anche, parlando di Castel Sant'Angelo, ricordare questa presenza innocente, spontanea del pastorello, no? Quando Puccini scrive a suo amico, adesso, vabbè, il nome mi sfugge, ma insomma al suo caro amico, vai a Roma, guarda a mezzanotte, all'una, alle due, alle tre, fino alle cinque, cosa succede intorno a Castel Sant'Angelo. E parliamo di un momento in cui intorno c'era solamente del verde. Certo. E c'erano i pastori che veramente dalle terre di amatrice... Lui ci deve proprio ammetterlo, certo. E quindi abbiamo la presenza del canto in ottava, dei poeti contadini, quindi sono cose che ancora oggi sento, sento dalle mie parti, una cosa bellissima, doverosamente in indecasillabo, e sono cose veramente che ancora oggi ci sono, tra un pastore e l'altro, bellissime. dell'arte alla realtà. Alla realtà. Quella viene calata... Quindi penso proprio ai quadri di Michetti, fino per quanto riguarda poi un certo Abruzzo. Patini in Abruzzo, cioè che sono sempre aquile che rapiscono Agnelli. È vero, vero, vero. Fino a questa atmosfera, ecco, no, tornando al senso della realtà, no, la necessità di descrivere le cose per quelle che erano. E poi una specie di squarcio di poesia bucolica che arriva improvvisa, che lascia sempre, tra l'altro bellissimo. Bello, bellissimo. Bellissimo, vero. Bellissimo e quasi riduttivo, no? Poi parlando, stiamo parlando sempre di Puccini, quindi... Estatico. Estatico, decisamente. Senti, io starei a parlare tutta la vita di Puccini, perché tu sai che sono, ahimè, vittima, sono Puccini dipendente, sono Puccini dipendente, addirittura, da la sua fazione. Siamo d'accordo, siamo d'accordo. Prima però, tanto ti ringraziamo tantissimo. Grazie a voi, grazie a voi. La signora ha provato, praticamente in un cast di Tre Tosche, si è provata quasi tutta l'orchestrazione e tutti i martener, quindi è veramente... Sei meritorio. Grazie, grazie, grazie. Beh, mi è servito per entrare ancora più nel personaggio. Per barco, ricordiamo, maestro è... Vi aspettiamo, vi aspettiamo, non abbiamo parlato un po' dell'allestimento, allestimento... Allestimento... Sontuoso. Sontuoso, tradizionale, ma vivo, e diciamo che ha del... Ecco, il nostro regista Andrea Cigni non ci ha consentito un secondo di tregua e ci ha fatto lavorare in maniera cinematografica. Una full immersion. Una full immersion totale e questo ci è costato molto, soprattutto i primi giorni, però siamo molto contenti, molto felici. Ricordiamo, direttore questa, Valerio Galli, che è un amico su Puccini è una garanzia. Assolutamente, ricordavo oggi che è nato nello stesso giorno in cui è morto Puccini, ovviamente non dello stesso anno, anche se la sua anima è molto antica. È giovane, ahimè, è giovane. Valerio è un personaggio, perché all'esterno, cioè fuori dalla buca, è un ragazzo assolutamente... Della sua epoca. Sì, sì. Imprevedibile anche questa sua capacità di concertare. Quando entra in buca veramente si trasforma e si aprono delle ali. lo conosco da tantissimi anni. Abbiamo fatto tante cose meravigliose a Torre del Lago e sono molto felice di essere qui con lui ancora una volta a parlare di Puccini, a sottintendere la grandezza infinita di Puccini. E a cantarlo, soprattutto. Per gioia anche nostra. Sì. Un cambio. Sì. Io ti do un pennale, tu mi dai se vuoi un microfono oppure lo lasci lì tranquillamente. Dove vuoi, sei la prima, quindi hai ampia facoltà di firma. Beh, dalle parti tue. Sì, esatto. Perfetto. Grazie mille, in bocca al lupo e alla prossima. Grazie. 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 Grazie a tutti.